Ragazzi, buongiorno! Sono il vostro Nighty Sparrow e bentornati sul canale! Oggi la iFuture mi ha mandato il nuovo FutureFit Ultra 2 Questo nuovo tipo di orologio con chiamate Bluetooth e cassa integrata Quindi cosa stiamo aspettando? Andiamo ad unboxarlo e lo proviamo per voi! Siete pronti? Andiamo! Ciao! Allora, direi unboxing rapido e indolore Nella scatola non c'è molto, chiaramente Ma a noi interessa lui! Siccome mi aspetta l'ultimo weekend sullo snowboard Non vedo l'ora di provarlo, così vediamo un pochino come si comporta sul campo Ma prima vediamo un attimo la prima impressione Allora, salta subito all'occhio il cavo di ricarica che è magnetico Chiaramente bidirezionale Lo attacchiamo sotto, si attacca tranquillamente Cavo USB da attaccare in qualsiasi adattatore per ricarica di cellulare Case completamente in alluminio Un unico tasso laterale Ma perché ancora ho il filo in mano? Cinturino di gomma morbidissima Sembra molto molto piacevole al tatto Ma qualora uno non fosse soddisfatto del tipo di cinturino È abbastanza semplice da andare a sostituire Perché qua vediamo che ci sono delle sorte di mollettine Che andiamo a tirare E il cinturino si stacca tranquillamente per poter essere sostituito Al di sotto ha i suoi sensori di battito cardiaco, frequenza cardiaca eccetera eccetera Che andiamo a spellicolare Raga ho spellicolato solo la linguetta Ok andiamo un attimo a togliere la plastichetta Potrebbe essere più complesso del previsto Ok è andata È andata Perfetto siamo pronti Andiamo a togliere la pellicola Che riporta la scritta che è raccomandato ricaricarlo completamente prima del primo utilizzo Ma noi ce ne batteremo altamente la ciolla Quindi Andiamo un po' a vedere cosa succede Per accenderlo chiaramente immagino che dovremmo tenerlo premuto C'è nessuno? Ok deduco che vada veramente caricato prima della prima accensione Ok tempo di un panino Abbiamo caricato il nostro orologio al 9% Giusto per farvelo vedere Allora la prima cosa che mi salta all'occhio è che abbiamo un unico pulsante Che credevo che fosse a ghiera tipo ruotabile Invece non lo è Quindi è soltanto un unico pulsante che clicchiamo Lui accende Clicchiamo di nuovo Va nel menu Un menu veramente poco dispersivo Quindi ci fa fare quello che ci serve E basta Senza perdersi nelle applicazioni come succede in tanti orologi E anche le impostazioni sono poche ma veramente chiare Ma andiamo un po' alla scheda tecnica Mi ripeto Cassa in alluminio IP68 quindi impermeabile all'acqua Cassa speaker integrata E microfono dall'altra parte Possibilità di fare le chiamate in bluetooth in viva voce Cosa molto comoda E che non tutti gli orologi hanno E schermo da 1.85 pollici IPS da 240x280 pixel Sensore di battiti cardiaci e ossigenazione del sangue Per le applicazioni base basta scorrere verso destra Abbiamo battiti cardiaci e ossigenazione del sangue Eccetera eccetera Qua si attiva chiaramente il sensore Ora andiamo a provarlo Lo mettiamo al polso E vediamo come si comporta veramente sul campo Ok siamo arrivati in montagna L'orologio è carico Il gatto sta preparando la pista Domani mattina ci vediamo sulla pista Ok l'orologio ce l'abbiamo al polso Sono le 10.43 di sabato mattina Siamo in mezzo alle montagne Abbiamo già ricevuto una chiamata Quindi le chiamate funzionano molto bene In viva voce chiaramente E nulla Andiamo avanti E vediamo un pochino A fine giornata Quanto ha consumato di batteria Come si è comportato questo orologio E speriamo di non aver bisogno Del fischietto di emergenza Del nostro super bracciale L'orologio c'è Abbiamo messo il nostro sfondo Con il nostro robotone Fighissimo Si vede anche in condizioni di contro luce Direi che possiamo andare a sciare Via Eccoci ragazzi Siamo tornati dal weekend in montagna Allora abbiamo sfruttato questo orologio Veramente veramente tanto Devo dire che la batteria Praticamente non è andata giù di una tacca E ancora al 100% Non chiedetemi come sia possibile Però 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 Devo dire che ha fatto un suo dovere Diciamo che l'ho abbastanza maltrattato Perché qualche caduta l'ho fatta L'ho strisciato per terra nella neve Nel ghiaccio E il vetro Non sembra aver subito nessun tipo di danno Che dire Veramente Base Un orologio base Ma fa quello che deve fare In autonomia Lui da solo A cadenze regolari Ti misura battiti cardiaci E ossigenazione del sangue Ho capito che questo tasto Non è chiaramente Come spiegavo prima Una ghiera di quelle che si ruotano Anche se ruota effettivamente Ma è semplicemente una cosa fisica E non è altro che il tasto Per andare indietro di uno Quindi Semplicissimo Vado nelle impostazioni E in qualsiasi impostazione sia Quella che devo andare a toccare Vado in luminosità Torno indietro di uno Torno indietro di uno Torno indietro di uno Torno indietro di uno E siamo qua Diciamo che è la cosa più banale Ma più comoda Diciamo In un orologio del genere Impermeabile Posso garantirvi che lo è Perché l'abbiamo usato Sotto la pioggia e la neve Nelle chiamate che ricevete Suona e vibra Quindi se rispondete dal cellulare Con il tasto verde Potete parlare in vivovoce E devo dire che si sente Anche molto molto bene Quindi se fate sport Avete un casco Che sia E' molto comodo Anche per quello Il reparto messaggistica Vi manda semplicemente Una notifica Anche di whatsapp O anche altre applicazioni Su cui vedete Nome del mittente E messaggio Fa un pochino fatica Con alcune emoji Quindi si vede il quadratino Ma vabbè A quello serve Possiamo visualizzare le notifiche Swappando dal basso verso l'alto Quindi vediamo Per esempio Nome del mittente E messaggio Anche se ci clicchiamo sopra Non possiamo rispondervi Quindi è soltanto Per poterlo visualizzare E possiamo chiaramente eliminarlo Scaricando l'applicazione C'è la possibilità Di andare a cambiare i quadranti Installare un sacco di quadranti nuovi Simpatici Come questo qua Che ho utilizzato io Se svoipiamo dall'alto verso il basso Ci appare il nostro menu rapido Possiamo dire che In questo menu Normalmente abbiamo il menu Diciamo classico A righe Se svoipiamo dall'alto verso il basso E clicchiamo questo tasto qua Possiamo vederlo Stile Apple Watch Che è molto simpatico E divertente Oppure Sempre svoipando da verso l'alto Possiamo vederlo come Icone classiche Possiamo dire un orologio Tutto da scoprire Io La prima cosa che voglio scoprire È quanto dura la batteria Lasciandolo acceso Perennemente collegato al mio telefono Quindi Vi farò sapere In un prossimo video Vi lascio i link di iscrizione Per poterlo acquistare E al prossimo video Ciao 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 Ciao